Programmi televisivi Mediaset, proseguono più del previsto. Da qualche settimana i palinsesti televisivi sono tornati quasi alla normalità. L'emergenza coronavirus infatti ha portato alla sospensione di alcuni programmi e a cambiare l'impostazione di altri. Nei giorni scorsi quindi sono ritornati in Rai Vieni da me e detto fatto, mentre a Mediaset Maria Di Filippi è ritornata in onda con il suo Uomini e Donne e tutti i suoi protagonisti, ma fino a quando andrà in onda? Nei prossimi giorni infatti ci saranno dei cambiamenti e si lascerà spazio ai palinsesti estivi. Nel dettaglio per quanto riguarda il dating show di Canale 5, secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuto terminare questa settimana. Invece in base alle ultime novità, terrà compagnia ai telespettatori con le vicende di Gemma, Giovanna e tutti gli altri fino al 9 giugno. Si allunga quindi di una settimana, ma il 2 giugno in occasione della festa della Repubblica non verrà trasmesso. Finito Uomini e Donne si lascerà poi spazio ad una nuova soap dal titolo, Daydreamer, Le Ali del Sogno, che ha come protagonista l'attore turco Jean Yaman. Importanti novità riguardano anche Barbara D'Urso e i suoi due programmi, come Radio 5 e Live non è la D'Urso. Va detto che questi programmi non sono mai stati sospesi, a differenza di Uomini e Donne, e la conduttrice napoletana ha continuato ad andare in onda in uno studio senza pubblico e con pochissime persone che vi lavoravano. Inoltre è anche cambiata l'impostazione del programma, sia a Live che a Pomeriggio 5, gran parte della trasmissione era dedicata all'informazione. Anche i programmi di Carmelita si sarebbero dovuti interrompere questa settimana, e invece, come lei stessa ha dichiarato in una recente puntata di Pomeriggio 5, si allungano. Live non è la D'Urso, con tutti i suoi ospiti e opinionisti in studio e in collegamento, terminerà quindi il 14 giugno 2020. Diverso il discorso per Pomeriggio 5 Il programma pomeridiano di Canali 5 ha spesso ottenuto degli ascolti più bassi rispetto alla vita in diretta. Anche il programma di Rai 1 è stato ampiamente dedicato alla pandemia e la scelta di prediligere l'informazione, nel loro caso, è stata premiata. Dunque, il programma di Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, andrà in onda fino al 29 maggio e per ora non è previsto nessun allungamento. In conclusione, i telespettatori dei programmi citati, tra poche settimane, dovranno salutare le loro trasmissioni preferite, che lasceranno spazio a soppa e film in replica. Mentre per quanto riguarda il programma dedicato ai sentimenti, Tentation Island, versione VIP, andrà in onda prima del previsto. Il docu-reality verrà infatti mandato in onda a cavallo tra fine giugno e inizio luglio. Una scelta del genere è stata presa dai vertici Mediaset, onde evitare che la trasmissione condotta per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi non si vada a sovrapporre con il grande fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato recentemente che verranno mandate in onda due puntate a settimana e a partire da settembre 2020. La versione NIP invece condotta dal confermatissimo Filippo Bisciglia andrà in onda in autunno. La località scelta è sempre la Sardegna e le coppie dovranno interagire con i single e le dentatrici tra i giardini e le stanze del resort Is Morus Rele. Siete felici per questo prolungamento dei programmi Mediaset? Anvoi i commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.